C'è chi per salvaguardare il progetto non manda via l'allenatore e chi per lo stesso motivo invece decide di farlo. Sono scelte, l'importante è farle sempre con l'obiettivo per il bene della società e della squadra. Poi si può anche sbagliare di nuovo, ma l'importante è fare qualcosa quando ti rendi conto che la situazione non può andare avanti. Arriva il cimitile nella prossima giornata squadra ostica, cosa ti aspetti dai tuoi in continuità? Sicuramente quello che abbiamo sempre chiesto ai nostri giocatori è quello di metterci tutto in campo. Poi il campo è il risultato figlio di tante cose. La partita che abbiamo fatto mercoledì, noi eravamo più under del solito, il Ponte ne aveva ancora di più di noi. Vincere aiuta sempre, in qualsiasi categoria, con qualsiasi squadra. Vincere è sempre un'iniezione di fiducia per la squadra. Quindi è stato anche un test utile per mister Quaglia, per prendere coscienza del gruppo che ha e per cercare di cominciare a fare delle strategie per poter arrivare a domenica contro il cimitile. Partita importantissima nel migliore dei modi. Un punto in tre partite sinceramente se lo aspettava? Ma noi, questo è il primo anno che facciamo la promozione, noi non pensavamo sicuramente che sarebbe stata una passeggiata, anzi. Sapevamo delle difficoltà, ma il punto innanzitutto l'abbiamo preso contro la Bellinmo, che prima è in classifica, è una squadra attrezzata per i vertici. Noi dobbiamo salvare la categoria, l'ho sempre detto. Quindi la sconfitta di Gesualdo è una sconfitta che ci stava, abbiamo giocato malissimo, anzi secondo me non siamo proprio scesi in campo. Stesso discorso, invece quella che ha fatto malissimo secondo me è quella contro il Mano Calzati, perché una nostra diretta concorrente ed era una partita che secondo me si poteva e si doveva stravincere, invece l'abbiamo strapersa.